Cali di tensione, sbalzi di corrente, blackout totali. Da ieri sera la cittadinanza è alle prese con continui disagi derivanti dall'assenza o dall'alternanza di corrente elettrica. Il maltempo delle scorse settimane, con forti raffiche di vento, continua quindi a creare problemi in diverse zone del territorio marchigiano, a partire dalle ore 20 di ieri sera, come accaduto a Gimarra, in zona Poderino e in zona mare dove sono stati segnalati lampi di luce. Problemi anche a Carrara, a Borgaccio di Calcinelli, San Cesario, fino a Ponte Sasso, Mondolfo e a Senigaglia. Tante le famiglie rimaste al buio fino a questa sera, come in zona Tombaccia, in Sassonia, a Finile di Fanu e a Ronco-San Baccio. Nessun problema invece a Tre Ponti e a Bellocchi. Gli sbalzi di tensione, che a quanto pare avrebbero ancora a che fare con la salsedine, hanno fatto saltare diverse cabine. Scintille dai tralici dell'alta tensione, centinaia, le chiamate ai vigili del fuoco e all'Enel, al lavoro da giorni per cercare di ripristinare il servizio. Alcuni interventi sono stati segnalati alla centralina della Paleotta e sui cavi del traliccio attigo al parcheggio della Comet, dove i pompieri hanno delimitato l'area. Oltre a questo, diversi sono i sistemi d'allarme scattati. Si sono accese le spie rosse anche nelle centrali delle vigilanze private e delle forze dell'ordine, ma erano solo false richieste d'aiuto, provocate dai ripetuti blackout.